Acqua calda, sale grosso e aceto di Elisabetta Nencini. La storia che voglio raccontare non parla di spettacolari imprese né di rivalità fra due grandi campioni Fausto Coppi e Gastone Nencini, mio padre, interpreti straordinari di epoche leggendarie del ciclismo le cui strade un giorno si sono incrociate e per oltre un quinquennio da atleti antagonisti hanno pedalato a fianco a fianco per le vie d'Europa. Questa è una vicenda semplice, è il racconto di un ciclismo di altri tempi quando pedalare sulle strade della fatica e contendenti al podio con savoir faire si passavano la borraccia infuocando le tifoserie in discussioni interminabili di cui ancora oggi si dibatte sulla generosità dell'uno o dell'altro fuoriclasse. È la storia di un tempo significativo di contatti e contenuti umani in cui i campioni, per quanto zannati dalle folle come valorosi eroi in un periodo in cui lo sport del pedale era il più popolare, non avevano perso la loro autenticità sociale di persone da poco uscite dalla guerra, abituate a dure fatiche, pronte ad aiutarsi vicendevolmente qualora ce ne fosse stato bisogno. Capitava a volte dunque che prima di un'importante competizione i beniamini del pubblico sportivo anziché dormire come di consuetudine in alberghi di prima categoria per notassero in case di privati gente semplice e discreta che metteva a disposizione la propria modesta abitazione affinché l'illustre ospite potesse riposare nella confortante intimità domestica lontano dall'assillo invadente dei giornalisti o dei tifosi troppo zelanti. Ed è proprio per sfuggire a sterili e molesti pettegolezzi che il fatto ha origine. Pedalando a ritroso nel tempo ci troviamo nel 1958 sulle strade del Giro d'Italia. Il gruppo dei ciclisti è da poco giunto al traguardo della sedicesima tappa, la Trento-Lavico Terme. Gastone Nencini, vincitore magnifico l'anno precedente della quarantesima edizione della Corsa Rosa, si affretta con tutta la squadra della Clorodont a entrare nell'albergo assegnato dagli organizzatori. Il massaggiatore Paolo Niccoli li aveva preceduti di qualche minuto per organizzare le camere degli atleti ma soprattutto preparare la stanza di Gastone Nencini, l'unica nel piccolo complesso alberghiero dotata di una vasca da bagno. Facendo attenzione che nessuno dei corridori si accorgesse del privilegio ragionevolmente concesso al loro capitano, aveva opportunamente sistemato gli asciugamani e gli accappatoi nelle docce comuni collocate in fondo al corridoio. Dopodiché si diresse nella camera di Gastone Nencini per adempiere alle sue mansioni professionali. Chiuso la porta chiave per assicurare privacy e tranquillità, preparò la vasca da bagno con acqua calda, aceto e sale grosso da cucina. Un tocca sana semplice ma efficace questo per disintossicare e migliorare il recupero muscolare dopo un intenso stress psicofisico, un momento imprescindibile per un ciclista che unitamente ai massaggi viene così aiutato ad affrontare al meglio la tappa del giorno successivo. I vapori dell'acqua calda invogliarono Gastone Nencini a immergersi nel liquido tonificante. Il tepore allentò la tensione muscolare dell'atleta che beatamente chiuse gli occhi. Finalmente il guadagnato riposo dopo tanta fatica. Il massaggiatore aveva da poco iniziato a decontrarre i muscoli di Nencini quando qualcuno bussò alla porta facendo trasalire entrambi. Niccoli supponendo che fosse un gregario del corridore toscano si affrettò a ripetere per l'ennesima volta le docce sono in fondo al corridoio e gli asciugamani sulla sedia. Qualcuno dall'altra parte rispose sono Fausto. Il massaggiatore guardò Gastone con espressione interrogativa che ci faceva coppi nell'albergo di Nencini anziché alloggiare nel suo hotel con i compagni della Bianchi. Senza pensarci un attimo mio padre ordinò di aprire la porta. Fausto Coppi entrò e con indosso la divisa bianco celesti ancora impregnata di sudore cortesemente chiese di poter usufruire del bagno caldo. Gastone rispose con un placido gesto di assenso. Aveva intuito lo stato d'animo del suo ospite e questo bastava a non porre domande indiscrete. Fausto Coppi si spogliò e con atteggiamento confidenziale entrò nella vasca insieme a mio padre, uno a capo l'altro a piedi. In contemplato e pago silenzio i due campioni abbassarono le palpebre e lasciarono che la fatica defluisse dai loro corpi e la mente si svuotasse di qualsiasi pensiero. In rispettoso silenzio il massaggiatore sebbene meravigliato della singolarità dell'evento riprese la manovra defaticante sulle membra di Nencini fino a quando mio padre con sguardo eloquente lo bloccò e senza proferire parola ma con il solo cenno del capo lo invitò a massaggiare il suo avversario stanco e affaticato come lui. Coppi non si rifiutò e lasciò che il massaggiatore appoggiasse le mani esperte sulla sua possente muscolatura. Quel pomeriggio in gran segreto dopo l'arrivo della tappa nella località termale il campionissimo si era allontanato dal suo entourage e dai giornalisti che lo seguivano come segugi più interessati alla sua relazione sentimentale ampiamente contestata dai ben pensanti del paese che ai suoi risultati sportivi. Il suo desiderio era passare una notte tranquilla con la sua compagna Giulia Occhini lontano da maldicenze, sguardi ammiccanti e per questo aveva deciso di pernottare nell'albergo di Gastone Nencini poiché sapeva potersi fidare della discrezione del suo rivale. Le infinite ore passate insieme a pedalare nel gruppo gli avevano svelato non solo il valore dell'atleta ma anche la serietà dell'uomo nonostante la competizione tenda sovente a far emergere le debolezze dell'essere umano agli occhi del contendente risulta evidente che talora la sua grandezza è tanto palese da non essere posta in ombra. E così rilassati i due campioni senza tanti convenevoli si salutarono. Ciao Agostone, ciao Fausto, a domani. La mattina seguente il massaggiatore Paolo Niccoli fu avvicinato da Ettore Milano, uomo di fiducia di Coppi. Fausto ti ringrazia e dalle sue tasche tirò fuori 20.000 lire, una bella cifra al tempo per qualche minuto di arrangiati messaggi in una vasca da bagno. Paolo Niccoli prima di accettare l'autocompenso guardò mio padre sperando in un cenno di approvazione che non tardò ad arrivare.